A voi tutti cari amici di Meteo Giuliacci sarà un giovedì caratterizzato da un po' di instabilità sull'arco alpino il fresco, l'aria più fresca che è giunta sul versante adriatico, già si allontana quindi un po' di instabilità pomeridiana sull'arco alpino altrove sereno, poco nuvoloso, con pochi disturbi e quindi, attenzione, tempo bello e tranquillo e le temperature torneranno di nuovo gradualmente nel corso di questa settimana nella seconda parte della settimana ad aumentare, insomma si tornerà di nuovo a soffrire per il caldo Arrivederci